Si terrà nei locali dell'oratorio a Santa Barbara il 1 settembre alle 19 un incontro organizzato dai comitati di quartiere, al quale parteciperanno i consiglieri comunali e dirigenti scolastici sul tema SCAT. Infatti, con l'imminente riapertura delle scuole, i cittadini nisseni continuano ad essere preoccupati per un servizio pubblico che continua ad essere sospeso. Si tratta più precisamente della delicata questione SCAT, la cui sospensione del servizio già da quattro mesi ha creato non pochi problemi in città. A breve i problemi pare aumenteranno. Infatti, se il servizio di trasporto pubblico resterà fermo, non si sa come faranno gli studenti dei quartieri più lontani, come ad esempio San Luca e Santa Barbara, a recarsi nelle scuole di appartenenza. Sì, come comitati di quartiere abbiamo pensato di interessarci in questa maniera della questione SCAT. È vero che da settimana cerchiamo di incontrare le istituzioni per sollecitarle alla risoluzione del problema, però a questo punto abbiamo pensato che fosse il caso di fare incontrare i cittadini con i lavoratori della SCAT. Per questo motivo abbiamo detto questa assemblea, in cui intendiamo affrontare in maniera serena quello che è un problema che da mesi attiene agli cittadini. Sappiamo infatti che da mesi c'è gente che resta chiusa a casa e impossibilitata di uscire proprio per la mancanza di questo servizio di trasporto urbano. Quindi in questa assemblea intentiamo affrontare sì i problemi dai lavoratori della SCAT, che immaginiamo che da mesi non prendono stipendio, ma è anche vero che anche i lavoratori della SCAT si devono mettere nei panni dei cittadini, che da mesi sono impossibilitati a muoversi. Abbiamo quindi invitato tutti i cittadini, abbiamo invitato i consiglieri comunali come rappresentanti della comunità nissena, e abbiamo pensato anche di invitare i dirigenti scolastici che appunto con l'inizio delle scuole verranno direttamente investiti da questo problema, quando molti allunni non potranno presentarsi negli edifici scolastici proprio perché sono impossibilitati a muoversi. E chiaramente abbiamo invitato tutti i lavoratori della SCAT, speriamo infatti nella loro presenza. Grazie.